di madre berlinese e padre friulano. Educata in una scuola svizzera nella città nativa. Debutta 19enne nel cinema con il film Teresa Confalonieri. 1934, di Guido Brignone. Nel dopoguerra esce il film Desiderio. Iniziato da Roberto Rossellini nel 1943 e portato a termine da Marcello Pagliero nel 1946. Ellie Parvovi interpreta il ruolo di una donna senza scrupoli. Sempre nel 1946 interpreta un altro ruolo negativo nel film Il sole sorge ancora. Di Aldo Vergano. Nella metà degli anni 50 la sua carriera è in declino. Unica partecipazione di rilievo è quella al fianco di Totò in Totò Terzo Uomo. 1951, di Mario Mattoli. Nel 1960, dopo aver interpretato un ruolo in Madri Pericolose, abbandona per sempre la carriera cinematografica. È scomparsa nel 2010 all'età di 95 anni.